Siamo arrivati oltre i mille con fragole in streaming, in due Si è vero, no, mille, ma mille e tre anche Si, si, su gaming live abbiamo fatto tipo mille e cinque No, mille e sette e settantotto, è il picco Ah, è vero, è vero Il picco è stato mille e sette e settantotto Poi sono rimasti per poco Yeah, ha capito tutto della vita Che jungler vuoi? Io direi una dcarry, così se lì picca il solo laner posso andare a dcarry Cioè abbiamo una dcarry late game Ud, dai Cosa? Oh, così non manca la dcarry, abbiamo un'altra red Ok, ok, ok Ok, io starto da bluetooth, starti da red Anzi, starto dal red avversario Eh, esatto, dai, almeno quanto raggiungiamo, scusa E tu starti dal nostro red Ok, ok, ok Let's do this K Era meglio switch jungle E vabbè che, non lo so, abbiamo una bella compo con Ashe Alla fine posso fare engage di ulti Poi arriva Fizz, 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 Rihanna ulti, Lulu No, cap Strong, così Indeed, strong Strong, such wow Poi, poi se tipo tu mi dici, vado a gankare doppi Poi tiro l'ulti nel mentre giunglo Perché prendo le skin sugli smurf? Perché non ha importanza Perché io comunque ci tengo Dicevo Cioè, per me Doveva giocare doppio jungle col teleport Vero Uno dei due doveva giocare col teleport È vero Cioè, per me Grazie a tutti La playlist Nightcore non ne ho Cioè ho solo conosco qualche canale YouTube Cioè c'è anche uno su Spotify che è roba buona Anche se così sembra droga Però ho solo quelle non la mia playlist Almeno non Nightcore Ah posso dire statistiche sugli RP vieno a startare il game Arrivo arrivo Ho preso anche una ward Ho preso anche uno Non volevi fare invade Sì io vado alla loro raid Oddio mio Aiuto 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 E devo andare back E tu invadi Invadi blu di cosa Invadi A me serve una mano Lulù perché sei aft Lulù fucking lulù E' sconnessa E' sconnessa Guardale Al centro Però vabbè non me ne frega niente Vabbè allora io vado solo a bot C'è giunglo un po' e poi vado solo a bot Credo Eccola Eccola E' bello che lulù dice E dice E' summoner's disconnected E' ancora in base Adesso la ward Go Comunque se ne dovremmo invadere il loro blu ora Sì infatti sto arrivando Adesso dovresti venire con me Perché io da solo non riesco Ok arrivo Arrivo Ah il jarvan è top Livello 2 Ok andiamo Invadi Spero che Nasus abbia il teleport E non altro Tra lo prendo io Dato che tu lo hai vero Sì sì Andiamo Andiamo Poi andiamo a gancare i bot E poi andiamo pure i bot Esatto Aspetta aspetta C'è Xerath che sta arrivando C'è Xerath che sta arrivando Affanculo Xerath Flash Dovrà flashare dai Ok ho usato il real Io ho usato il flash Manca la bottom lane Quindi dobbiamo andarcene Oh mio dio No però io lo voglio il loro blu Eh ma hanno appena guardato qua Quindi sicuro non possiamo Lo stiliamo Lo stiliamo Se avessi il fear Andiamoci dai Ok No c'è bravo Che palle Dai possiamo metticelo a bordo qua Ce l'hai Non ce l'ho La bordo No ma come non ce l'hai Flash check La bordo Non ci credo Ha flashato Dai Il red buff è qualcosa Forza Scendi Lu 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 No, 100% umirate, Nasus, me, god, Nasus No, non è morto Merda, sono morto No, non sei morto Ok, no, Vayne non è salita, grazie a Dio Dai, che luck, quello di Dai, vado botto Io sono ancora a livello 2 Tranquillo, tranquillo Ok Oh, oh Uh, male, 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 male Mi hanno fatto un male cane Capo, sono i serresti, però ci fanno i blaze Curati un po' lì e poi vieni Capo, dove sei? Eh, non sono ancora a livello 3 Fai, rendimi conto Sticky, sticky, vieni Tanto non lo sa, non lo sa che ci sono, eh Che frill, dai Vai, vai, ci faccio, faccio, faccio Antana, ah, viena la No, vabbè, non ci credo C'è, c'è C'è C'ha shotati brown, kipo Perché abbiamo fatto doppio jungle? Ah, scusate, dai, niente, è deciso ancora Eh, uguale a top invece Oh mio dio, no, mi arriva la No, no, the dodge Ah, via quello, eh L'altra volta che è salvato, assurdo Eh, vieni invece ha fatto un'altra kill Ah, vabbè Che cazzo facciamo? Qui con di slavo Eh, vabbè Allora, top andrebbe a morire Ah, bello No, dai, tornerà, sarà bug sbatto Come prima Spero per lui Kipo Ah, perché comunque Andavo giando, non è male Abbiamo vinto game peggiori di questo C'era uno in cui eravamo, ti ricordi? Quello con Rengartoff ultra fiddato Che io ero Mamma mia Ti volevo dire che io ero Mi sporto una finita Ed ero tipo 08 Oh mio dio Sì, anche quello è vero Il problema è che tipo stanno Boh Vein può rifarmare In realtà servirebbe Lulu Eh, ora sì, ci serve Lulu Lei non è un problema Però serve lui E la cosa è che Nasus è stato camperato malissimo E adesso tipo non può fare un cazzo Povero Cristo È stato camperato come un cane Oh mio dio No, no No, please In realtà non fa ridere robe No, infatti Nasus mi sa che è un pochino fuori dalla partita È livello 4 come me Direi che sta per arrivare a livello 6 probabilmente Oh, we still got this Ah, fantastico C'è Jarvan C'è Jarvan che mi counter jungla Ottimo Eh, io devo stare bot Perché non abbiamo una Un bot Abbiamo Lulu Huff No, vado a farli Blu Vado a farmi il red E Lulu non torna Mi sa che non è un bug splat È proprio andata a FK Mi sa di sì Ho visto la Ma la parata Ho detto Ok, via guys È ma Vado a farmi la sega No, vabbè Vabbè Nasus è stato camperato malissimo Dai, 0-4 non è che si deve andare a FK 0-5 Eh, Jarvan è solo top L'importante è avere il kill da positivo a fine game Così da poter dare la colpa agli altri È forte il red buff, cavolo A me serve il livello 6, porca miseria Poi gankavo mid Tu hai la ulti Ho questo gank mid Ah Ehanix Non ha il flash, eh Quindi potete continuare Andiamo a gankare bottom Eh, devo regolare prima Perché ho i gold I big gold I big gold Sto venendo a bot Se ne è accorto solo ora? Questa Diana Definitivamente no Dc Provo bene Se ci spero Sto venendo Questa è un bel bait Lavo Perfetto What? Non è la tua Mi ha bloccato la ulti Ah Con lo stun Oh, però guarda quello Oh, però guarda quello Oh, no, no Il god Io direi di andare Esatto Sei un pazzo Sono morto Vabbè, ma ci Vi visitano Vabbè, che siamo in 4 Non c'è anche odio Perché è andata Ah, si poteva vincere tranquillamente È tornata Comunque Vabbè Vabbè Oh, my god Povero Nasus Eh, no, niente Guarda Nasus E' stato totalmente Legato Da sta partita Tanto farmerà Believe We can still win this Orianna Roma top Come top Ori Dobbiamo fare una triple kill Anche se sono due Sono due E tipo Sono due livelli sopra noi A tutti e tre Allora, io sono a livello 7 Ah, ok Dai, questo è un buon bait Travo, vedi Eh, in realtà Forse è un po' troppo presto Però Oh, my way Lo stun harta Oh, mio dio Purtroppo le stun harta Non durano molto Guarda, eh Inizio di un comeback La prima di una serie di kill Kill Ah, giusto Nasus Tu vuoi il farm Sono molto preoccupato Per questo game We've got this No, sto per smaltarlo Nope Too late, moron Oh Che altro Beh, in doppio buff Con una blade A 11 minuti E Orianna è appena stata Bruttalmente esplosa Quattro mid Tocca a difendere i mid Mi sa Mi sa anche a me Vedi C'è C'è sinergia Avevo pensato la stessa cosa Oh, mio dio Sia così morto Forse no Sì Mi sa di sì Mi sa di sì Anche a me Vabbè, la difesa autore È stato Eroico Eh, allora Guarda, povero Nasus Di nuovo Cosa? Il nostro blue buff Il raga vuole rubarsi C'è un Irelia qua Ma dai Almeno Più Eh, ma dobbiamo tornare in game Noi Sì Vai a due kill E ha la goccia Può farmare anche senza Dai Kipo Sì Direi di sì Dai, dai Prendilo tu Facciamo la scambia di buff Tanto io se lo vodico Kipo Ah, se devano mid possiamo fare qualcosa Cosa si dovrebbe lasciare secondo voi contro Vai, team fight This fight is good Madonna Ehi Per un pelo Facciamo una tricosi Ci hanno un po' shottati Eh, hanno dei danni Oh, il teleport di Lulu Ah, ed è morta Ed è morta E forse Oh, dai Andiamoci Bravo Nasus Rallenta qualcosa Nasus È l'unica cosa che fai Quanto la jumpa su Vayne Ah no, Vayne Non lo aiuta Capo, questo è il comeback Capo Che ci credo Madonna i danni di Vayne What the fuck Lulù dove ha crederci No, comunque ha snobolato troppo i rally adesso Beh, Nasus è late game Arianna ha anche Fiddlest Kidd, Masha Tudu È un buon team Certo, anche loro Vayne I rally Non sono messi in poi male Il flame di Nasus Da 0-6 Oh, mio Dio Io ho cancellato la ulti di Filosy Come un pirla Dico niente Ah, ecco perché Allora la prossima fight La vinciamo K No, non è che è colpa di Irelia Irelia ha snobolato Perché Jarvan l'ha camperato Allora la ulti bot Aspetta Oh Ho tirato la ulti bot Fatene buon uso Colpito qualcosa Sì Yeah Io non ho neanche preso l'assist Per quella game Jarvan è di nuovo top Guess what Però se fate una double kill Urf Allora prendete la torre Guarda come stanno trovando Guarda Il problema è Nasus Che continua ad andare top A farmare Tipo si mette Tipo in posizioni impossibili No Allora Una ulti l'ho tirata E me l'ha stoppata Una ulti l'ho cancellata io E una ulti Sono morto Prima di poterla castare Erb Vabbè dai ci siamo Ci siamo Guarda 7-21 Prima eravamo Zero Non è che in due jungle Abbiamo permesso a Jarvan Di camperare top Il problema è che Non avevamo Lulu Per tipo 10 minuti di game È vero Non è stato D'aiuto Comunque se stiamo in base C'è la tua ultima Tu un po' di danni li fai Alla fine dai Cerco di server Rabban Nello Zonia C'è una buona tecnica Darsi Lontano la deline Così da Non permettere agli altri Di prendere obiettivi Tip it up Aspett C'è anche Irenia Jokes Tu d'hai visto Jokes Prego No Questa è un pire Iscrivabile Dai prego Dai Loryanna Importante è avere idee buone Nonostante la ultima Stata di Loryanna Vedi Sta down Guarda perfetto Sì intanto Votto play Stiamo perdendo la torre Tanto possiamo difendere questi tre Tanto possiamo difendere questi tre Anche secondo me Anche secondo me Si ha Oh oh sono morto Sono esploso Quello è Raff Quello è Raff Che eh Siamo riusciti a ucciderlo In due In tre anzi Due per uno dai Nonostante tutto E si va peggio a Arvan Col Black Cleaver Oh Oh get Get tracked Vain Guarda Nasus Che ora prendono un shutdown So good In realtà non ha male Quindi secondo me Morirà Però Accelerati Lulu Fai qualcosa Maci Perché si è Perché si è fermata Ma comunque Allora Pensaci Se Braum Si è disconnesso Siamo in 5 di 4 Eh Le nostre chance di torri Aumentano parecchio Cioè Comunque hai visto Quel cazzo di Braum Quanto era grosso Cioè Non è caduto Con tre persone Focussarli A proposito Ma noi Drago Abbiamo mai fatto qualcosa Ah no Non è Huff Perfetto Non sto per Togliere Il nostro team Che sia Huff Dai uno speranza Mamma mia Questa è un bombetto Vai Bella Rivella 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 Più stupra Però bella Oh Teniamo a Jarvan Nessun nato Sono morto No Irelia è troppo Guarda Irelia È gigante Ma dai Comunque Guarda Abbiamo Interest Fighter Rivella Rivella Abbiamo ucciso Solo una persona Non è che abbiamo Due Chi abbiamo ucciso Scusa Ciao Xerath Non è Braum Jarvan Vabbè Loro ne hanno uccise due Vabbè Dai Vediamo Vinciamo le fight Vinciamo le fight Kipo Adesso arriva Xerath Ripulisce Ripulisce Non vorrei dire niente Abbiamo preso Anche una torre Uh Loro si inizia da una torre E poi Fai Nashor La torre Poi non te lo Nashor Ti ho persato Vabbè Però Ci credo Oh Oddio Comunque Questa è stata La prima ultima Che sono riuscita A castare Fino in fondo Alleluia Preferirebbe una war Da Nashor Ehehe Stai chiedendo un po' troppo Adesso Ma perché non fai rub Vabbè No Ci sta la zona Affettivamente L'angosire Ops Inanziamo questo Dai Che ha Che ha Che ha Pazzone Ok Anche Sperato Perfetto Dai Guarda No Back Andiamo In verità Fraggle Non ve lo sta dicendo Ma sta didossando Il team avversario Keepo O turno Magari Magari Bravo 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 Fai venire voglia La gente Di cominciare a didossare Comunque stanno facendo il Baron Probabilmente È la mia sensazione Watch out Grazie No C'era Braum Avvicino al Baron A guardare Eh vedi Adesso C'è Oh però no Sì a livello 13 Ha recuperato Irelia Più o meno Irelia è più forte E Jarman Non è a camperare Top E c'è anche Braum Adesso Guardi Il lato positivo Hanno preso il Nashor Possiamo fare il Drake Parry Ora possiamo anche non farlo Come volete Tanto non c'è Non c'è Buono Ottima notizia Perché ora non possono riprenderlo Dai che ho quasi Se prendo questo Ho il Needless Vai vai Tre Due È Braum Non gli faccio danno No io Sta arrivando Irelia Dietro di noi C'è anche Vayne Tipo qua Vai fermi Irelia Oh mio dio So bad Vabbè dai Rambo Te va io Wart Ah Dagialo Ok Boh dai C'è andata bene Sì peccato Che non è stata l'ultima Vabbè Dovevo provare Ah è stato Wart È stato Wart Ma sai no no Perché dobbiamo cesare Ma infatti perché state cesando Poi sono in due Ah sono in due Wtf Pensavo ci fossi anche tu a cesare Mio dio Quell'Irelia fa paura Però per fortuna ha preso la 3D Invece di fare oggetti intelligenti Deo grazie No la 3D La Blade Vado a fare il piccione Aspetta Secondo me stanno facendo il bar Ma ho questa Aspetta Aspetta c'è ecco io È piccione Yeeeh Ok niente Ah ma ho questa che pusha Ok abbiamo Messo erano questi su questo coso Questo campo Per avere il Perfetto Ho la Zonia La Zonia Ah però guarda vedi Non stanno chiedendo il game Grazie a dio Sì siamo Possiamo veramente vincere Eh il problema è Riuscire a evitare di essere Barstati dal loro team È quello che mi preoccupa Vabbè scusa Tu hai la Zonia Orianna la Zonia È un Fallout di Lulu Sono in 4 Comunque se non mi bisognerebbe Faitare Ma c'è anche Vayne qua Ma no c'è Vayne Evermine sono in 5 Ah appena guardato qua Beh Ti sento già a start Che cazzo stanno a fare Dai sono in panico Guarda In panico Più o meno Guarda Siamo Come è che dietro l'angolo Nasus va a comprare qualcosa Non so cosa Ha una strascaga di assediarci Cos'è sta roba? Ah così Non ci possono Non ci possono devarci È tipo improbabile Perché Eh il problema è Se tipo facciamo cose così stupide Come uscire dalla base Braumare collato Oddio Ma peccato non ho entrato Oh vogliamo rushare un usher In 2 Sei sicuro? Guarda che è tutto guardato Secondo me Sicuro? Secondo me si Ma perché non prendiamo meno swiver? Non lo so Ci mettiamo sempre Vabbè proviamoci Yolo E si può andare sempre back? Sì sì Possiamo sempre andare back Keepo Quanto vedono nasus bot Mica penso Nabbè Si stanno facendo il nusher Sì È la prima cosa che pensano Visto che c'è il teleport Abbiamo 2 smiles Se failiamo Siamo a 2 cazzo di car Put veloce Vai nusher Vai Andiamo back Andiamo back Andiamo back Oh mio dì vabbè Sì in teoria sì Io avevo già castato la ult E quella è la cosa Vabbè Non c'era neanche Xerath E questa è la cosa Vain Un pochino one shotta Con quell'infinity edge Un pochino Vabbè Inibitore Vabbè Solo un inibitore Dai Non vorrei dire Word Ma Non vorrei dire Word Ma sentiti Lo è quasi Lo è quasi Sicuramente Vabbè Lascerà loro Ora siamo safe Per 7 minuti Abbiamo una Per in meno Però Dai Dai La situazione era Giocco di Dio Quindi La situazione Ah e allora Siamo scusati Dall'andarpeggio No dai È vero Alla fine Non posso prendere il nusher Io ho ancora il nusher Il problema Il problema è che È quella Vain Cosa vuoi farci Anche io Guarda il mio Equip Ho dei danni Scherzi a parte Ho dei danni Ora faccio La Eh jarvan si è appena Fatto il nostro Blue Paddic shiv Problema è riuscire a stargli dietro Sti qua Noll Stesso è lo stesso Nice Noll Non dico niente Se Orianna riesce a farsi una Voidstaff Forse riusciamo a vincere un teamfight Il problema è che non c'è nessuno Cioè Nasus Nasus sta diventando grosso Guardalo Eh ma gli serve la Trinity Se no non ci sta dietro Vain Ha tantissime stack Ma non Non ha modo di raggiungere Vain Ne hai aiutare top Ne hai aiutare top Vabbè però questo è stronzo Probabilmente Che lo prextend Ah però questo qui è un buon bait Hai rabo Time to shine Buono Madonna quanto siamo forti Fortissimi Dai possiamo farcela Eh tu ci scherzi ma No no è fattibile Oh mio dio Oh ma Questo qui ho appena scritto una cosa geniale Però non so se funziona davvero Cosa? Prendi il runa con la Q slow A due persone Ad area Sì però consumi il triplo del mana Oh mio dio che figata Devo prendere assolutamente Ma cosa devo prenderlo assolutamente? Prendi lo cazzo di Prendi un phantom dance E stai zitto Non è meglio la static secondo te Lo static Abbiamo negato il national team nemico Ecco questo è un modo di vederlo Eh l'ho detto Per 7 minuti siamo più che safe Per 7 minuti 3 minuti e 30 Abbiamo i supermino Quindi Non danno più gold no eh? No non danno più gold Ok botto 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 Vabbè No non penso sia Da giallo non ho riuscito a saltare lì addosso Oh aspetta aspetta Guarda questo No 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 Go back Go back Go back Go back Retreat Retreat Basta 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 Oh mio dio One shot Que Go la vena One shot But perché non andiamo back Basta Sì io non ho quasi vita E quello è il problema Vorrei beccare Basta Prego Basta Beccare Can you please Stop Fighting Perché è tornato indietro a prendersi i calcini identico Dobbiamo trovare Porca puttana Madonna la po' per quanto tanto lo stoppava Eh sì io l'ho fatto soltanto per wave clearare Per renderti conto Vabbè anche se è torri What? Ma questi sono stronzi Era una free win Come cazzo? Ah che balle Questo game si poteva vincere easy Abbiamo praticamente quasi vinto una fight Eravamo senza torri Ah poi fai i sali e gli faccio la ulti Secondo te dove sono? Eh sono in dritti Stanno andando dritti No l'ho tirata male mi sa Quanto cazzo? Vabbè niente Quanto cavolo è veloce con la sua E attiva Devo andare back Ah davvero Spersi a parte Cioè sotto torno una fight Non la devo mai perdere No sotto torno no Il problema è che Non dico vinta però Era veramente close questa fight Ah comunque a quanto pare è uscito Azir Quindi prossimo game prendo Azir Oh mio dio sono al Baron O comunque sono vicini a Per emozio non mi fai dare prima del Baron E' impossibile Vabbè scusate l'engage di R Tipo questo qua Oh merda non è solo Puttana troia con lo Xerath Ah boy star Eh Vayne fa un po' troppo male per noi L'hanno trovato Sì con l'ultimo fight Ci ha inculato male Peccato Ma guarda Vi sono tutti così bassi di vita Se avessi tempo per guadagnare 2000 gold Per la Void Staff Magari potremmo vincere E' un'altra volta Ah no Rihanna si è fatta il Seraphine Brace Madonna Perché Puoi andare al Nasher E' tipo rischiosissimo Ci possono backdorare Vabbè tanto se non proviamo a Nasher Insomma Senza di questo Non possiamo vincere credo Perché poi lo prendono loro E pushano Non è uscito stanattina Xerr Forse è uccido da sera L'ho uccido magari con la Oh mio dio non ci credo Dai Akshore Mi notice LOL Non ce lo possiamo per smidare Eh c'è qua una Vayne che mi sta provando a uccidere Aiuto 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 Oh la base la base la base La base la base la base Vain Dai harder di merda No vabbè Ci ha fermato il back Ci ha fermato il back Qualcuno ha regolato Eh Rihanna si Ma non ce la fanno Ammazza Ammazza Sì Non ci siamo regolati Ah hanno regolato Dai perfetto Abbiamo fatto ace Fucking seriously No ma parole Guarda Nasus intanto dove va Guarda Nasus intanto che va a fare il lavoro Botton Usa lo smite per pulire sti grossi Ricordati Abbiamo doppio smite tra l'altro Quindi possiamo pulire abbastanza bene Guarda Nasus Guarda Nasus Vai doge Guarda Guarda come è grosso Che one shot a caso Oh Non ci credo Vattene 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 Andatevene Per favore Ma in verità In verità possono farsi l'inibitor Se sono abbastanza veloci possono farsi l'inibitor Oh mio dio Oh mio dio no Non ci credo No è il blu Dov'è il blu Non ci credo Abbiamo distrutto un inibitore Non ci credo Questo game Pre-win Non ho parole E te l'hai dato Tu ci sei fatto il coso da solo Va bene Comunque mi mancano tipo Tanta gold Oh mio dio no Perché non hanno beccato Restiamo solamente in base Prego Abbracciamo sta base di merda No No vabbè Mi hanno beccato fuori posizione Ho il cancro E vexerat è bottom Sì potete holdare Ah troia Quel naso fa male What the fuck Ok va bene No queste cose non mi vogliono fare Quanto quanto Tra quanto rispano Il nostro cavolo di cosa Non lo so Eccolo 10 secondi Oh c'ho già armando addosso Andiamo 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 Sto arrivando anch'io Sto arrivando Sto arrivando Sto arrivando Sto arrivando I'm out of my way Non ci credo Nasus ha 561 stack Sto arrivando Sto arrivando Sto arrivando Non ci wow K Oh mio dio L'hai bingato L'hai bingato Sto arrivando Sto arrivando Sto arrivando Siii Double kill Sono stato utile Non si sa come stop, 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 stop la pusha mai basta? easy shit easy 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 easiest game of my life holy shit so easy Abbiamo rovinato il game di qualcuno Abbiamo vinto Abbiamo vinto Abbiamo vinto Il lane game OP Lane game too strong Lane game too strong Easy Ringraziamo Fragola Complimenti Questo cazzo di game Ah qualcuno mi ha scommesso in chat Che mi donava 300 euro Se vinceva Non aveva anche scritto Se vincono questo game di stall Comunque solo per scherzare Non era easy ovviamente Però porca puttana Quei cazzo di game Quei cazzo di game Comunque aspetta Devo comprare gli RP per Azir Azir Aziz Aziz Paga ora Paga Ok let's do this Sono pronto Oh Azir Quel cazzo di game Quel cazzo di game Pagano